Siamo a conoscenza del fatto che l'illuminazione pubblica a 9 va revisionata con uno sguardo sistemico a tutto il paese. Ci sono delle vie, come quella di cui stiamo parlando, che a suo tempo sono state illuminate in base alle esigenze di una cittadinanza che stava crescendo. Oggi la situazione è cambiata, per cui venite, prendiamo in considerazione, esaminiamo e lo inseriamo all'interno di una valutazione molto più ampia che stiamo facendo. Da quando sono stata eletta questo è stato il mio modo di lavorare, accogliere le persone, comprendere quali sono le loro esigenze per poter dare passo passo delle risposte che rendano il nostro paese sempre più sicuro, sempre più casa di tutti quanti. Grazie